Sei appassionato di borsa e mercati finanziari e vorresti conoscere nel dettaglio le caratteristiche delle piattaforme professionali MTS Plus, Sfera e Scalptool? Non perdere l'appuntamento di giovedì 3 ottobre a Cagliari. Potrai imparare da trader professionisti le fondamentali tecniche operative di trading. Gli interventi si svolgeranno presso l'hotel Regina Margherita di Cagliari. Per informazioni compila il form in fondo alla pagina. Ti aspettiamo!